L'auditorium del Plesso Scolastico Edmundo Diamicis di Polla sarà intitolato alla memoria del compianto sindaco Rocco Giuliano, scomparso il 31 maggio scorso a Napoli, e quanto previsto da una delibera di giunta comunale nella quale si specifica che il provvedimento esprime la volontà condivisa dalla comunità pollese di ricordare l'amato e stimato sindaco attraverso un epigrafe in pietra con l'intitolazione dell'auditorium che sarà posizionata nei pressi dell'ingresso e la realizzazione di un'opera pittorica raffigurante il sindaco Giuliano. La scuola Edmundo Diamicis è da sempre un punto di incontro e di formazione dei giovani pollesi ed è stata considerata il luogo ideale per l'intitolazione in quanto di recente è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria realizzati proprio durante l'amministrazione retta da Rocco Giuliano, un gesto dunque con cui il comune di Polla intende tramandare e preservare la memoria del compianto sindaco tra le giovani generazioni in quanto individuato quale significativo emblema di uomo delle istituzioni, attento e sensibile alle problematiche giovanili e alla scuola. Considerate anche le sue illustri e innegabili doti umane e politiche, si è scelto di intitolargli l'auditorium della scuola anche perché il sindaco Giuliano, si legge nella delibera, ha incarnato in pieno la figura del politico dalle grandi virtù umane che si è speso quotidianamente e con tenacia per il proprio territorio, conducendo con successo numerose battaglie politiche per la crescita socio-economica e culturale non solo di Polla ma dell'intero vallo di Diano.